1923, nato a Firenze ma ha vissuto qui a Cabriglia dove ha fatto le elementari, poi di nuovo la famiglia tornò ad abitare a Firenze. A Firenze quindi lui era un bambino e il più grosso divertimento, quindi sarà negli anni 30, il grande divertimento per i bambini qual era? Era andare alla stazione di Campo di Marte a vedere passare i treni e allora questa storia del treno gli è rimasta dentro in una maniera così evidentemente emotiva perché ciò che si vive da giovani e da piccoli ti crea delle forti emozioni che a lui gli è rimasta questa passione dei treni sempre. Infatti anche i treni li chiamava per nome, la 730 delle officine Breda, era amico di tutti i macchinisti e di tutti i ferrovieri del Val D'Arno e insomma un giorno, noi eravamo già più che adulti, questo è successo una trentacinquina d'anni fa, un giorno eravamo a cena con lui e siccome conoscevamo nostro padre ed era uno che viveva anche molto di sogni, di sogni scientifici ma anche di sogni e ci disse mentre eravamo a cena bimba io voglio un treno, noi dicevamo vabbè una delle solite sue sparate, davvero va va sì, piglia un treno, gli dicevamo sapendo che non si sarebbe realizzato. Lui cominciò a fare il viottolo a ministero dei trasporti, ferrovie, dirigenti delle ferrovie dello Stato eccetera eccetera, chiedeva appuntamenti, si faceva ricevere, lo ricevevano e gli dicevano mi dica lui si sedeva e diceva al ministro che senta io voglio un treno, ovviamente tutti pensavano come noi, questo è un mezzo pazzo diciamo guardi non è possibile perché noi treni anche quelli dismessi non li diamo a nessuno perché rimangono proprietà delle ferrovie dello Stato e comunque non li diamo ai privati, noi a quell'epoca avevamo istituito la fondazione Roseto Botanico di Cabriglia e quindi mio babbo subito rispose ma io non sono un privato, sono una fondazione noi dissero guardi noi non diamo i treneri ma anche quando sono tutti da rottamare, non si può lui veniva via dopo due mesi richiedeva un appuntamento, si faceva ricevere, diceva io voglio un treno per questo durò due anni, alla fine un giorno gli arrivò una telefonata che gli disse senta c'è un treno merci lui avrebbe voluto un treno a passeggeri ovviamente e soprattutto avrebbe voluto una locomotiva per una locomotiva avrebbe venduto tutte e tre le sue figlie, il suo nipote ancora non esisteva ci avrebbe venduto tutte e tre al miglior offerente non gliene importava per una locomotiva avrebbe fatto qualunque cosa invece gli arrivò una telefonata e diceva senta c'è un treno merci dismesso e già deamiantizzato sul binario morto della città di Cortona, della ferrovia dicono se lo prenda noi non possiamo né venderlo né affittarlo e da lei diciamo in una sorta di comodato come in prestito rimane sempre di nostra proprietà, proprietà delle ferrovie dello Stato presso la sua abitazione, un treno presso un'abitazione e così penso che arrivarono quei quattro vagoni, penso con quattro viaggi distinti di carichi eccezionali di trasporti eccezionali, io non so come fecero a passare dalle curve di Santa Lucia non ne ho idea perché non me lo ricordo, non c'ero e lui in fretta e furia organizzò questo binario con le lungarine di cemento non avendo a portata di mano le lungarine di legno e sistemò questi quattro teni che a noi sembravano un orrore, ovviamente le ferrovie dello Stato ci dissero non potete verniciarli sull'esterno, non potete togliere le scritte perché rimane comunque di proprietà nostra, nell'interno potete farci quel che volete ma nell'esterno no, a noi ci sembra tanto brutto, o voi lo vedete degradato quando arrivò era ancora un treno merci dignitoso diciamo così a noi ci sembrò orribile, passava mia sorella Antonella che diceva che orrore, sembra quello dove ci trasportavano gli ebrei per i campi di concentramento passava mio figlio che era piccolo e diceva che orrore mamma, sembra quello dove portano le povere bestie al macello passava i miei babbi e diceva, il mio bel treno apro le finestre la mattina e vedo il mio bel treno e così lui ci voleva fare un ennesimo museo della rosa dentro poi in quei treni lì è terribile la temperatura, ci si gela in inverno anche con riscaldamento ci si scoppia di caldo in estate niente, per fortuna non andò in porto l'ennesima sua biblioteca museo della rosa, la usiamo noi come deposito di mobili di fatto però è lì che separa il giardino dalla vigna